Ok Bruno eccoci qua ti avevo promesso una sorpresa e qui ti presento Ramon il coach dell'Oklan City che ti spiegherà in italiano quali sono gli obiettivi del 2017. Ciao come stai Bruno? Come stai Bruno? Un piacere per me di parlare con te e di fare questo video piccolo quali sono gli obiettivi dell'Oklan City post Club World Cup. Io penso che in Giappone abbiamo fatto bene è sempre un po' difficile per noi di remotivare alla squadra dopo di Giappone perché per noi è un torneggio troppo importante. Quando ritorniamo a Nova Zelanda è sempre un po' difficile all'inizio della seconda volta della stagione ma penso che sempre dopo tre o quattro partite la squadra ritorna a livello e questo torneggio qui a Hong Kong viene bene per la squadra per remotivare tutti e per recuperare un po' il livello normale del gioco dell'Oklan City. Quando ritorniamo a Nova Zelanda l'oggettivo è di fare un buon campionato una buona seconda volta e con un po' di sorte arrivare alla semifinale e alla finale della Liga nazionale e si può vincere fantastico e dopo si gioca la Champions League di Oceania. La Champions è il nostro oggettivo numero uno perché se si vince si gioca al Mondiale dell'anno prossimo a Dubai. Piano piano ma speriamo che si fa una buona seconda volta e si può vincere un'altra volta e con un po' di sorte andiamo a Dubai l'anno prossimo. Ok, grazie mille. Alla prossima Bruno. Alla grande. Ciao ciao.